Eeeh, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è... Oddio che cacchio di bug è sta cosa qui Oh mio dio è bellissima Comunque questa è la Minecraft, la serie in cui io cercherò di non morire con l'outjump attivato Vado a toglierla Ok, disattivato l'outjump, io ho messo quac... Mmm, ho messo a cuocere nel frattamento di tempo che voi non c'eravate una cesta Ho messo a cuocere una cesta Poi ho preso delle cotolette, le ho messe dentro lì E ho cotto tutto il ferro E con questo ferro mi accingerò con questi sticchettini A fare questo Eh, se riesco a farlo, ok A fare il nostro primo piccolo di ferro Per prendere l'esemplare di cose che... No, non voglio fare il ferro Ho deciso di fare l'iron chest pit con il ferro rimanente Perché penso che sia bene essere un pochino equipaggiati E poi mi faccio una piccolina Una piccolina Ricordiamoci a tutti Spada in ferro Perché fa sempre bene avere una spada in ferro Non si sa mai chi... Già che ci siamo ci facciamo anche un piccolino Corsaletto, sì un corsaletto, un elmetto E adesso prendiamo uno stack Non 45 Bensì uno stack Di cobblestone Mangiamo E non apriamo l'inventario Voi c'è una torcia, non so perché E adesso Oggi dobbiamo Non voglio sicuramente scendere qua Però Voglio semplicemente Scendere un pochino safe Perché non vorrei morire al secondo episodio Perché nel primo non ho rischiato molto Eh? Però al secondo episodio non mi piace molto come idea di morire Allora lì c'è uno zombie che posso uccidere facilmente E facilmente Dando proprio facilmente Quindi non facciamoci troppi problemi a ucciderlo Allora Andiamo lì Tranquilli Tranquilli Non ci può uccidere uno zombie Dai Cioè ho capito che Questa è Arbicor Ma Lo zombie non ci può uccidere Ok Allora Zombie è andato Adesso prendo il colpo Mi ha fatto un colpo Toh Mi ha fatto un colpo zombie Non me lo meriterei Il colpo Di vedere un colpo Eh te lo dico Qui c'è tanto coal Che mi fermerò Dopo a prendere Oh Bello No ma non è un ultra hardcore Quindi non ci faccio Praticamente niente Con l'oro Paura Di questi Bellissimi esemplari di zombie Che potrebbero uscire Da un momento all'altro Cacchio creeper Cacchio rega C'è un creeper C'è un creeper Non mi piace creeper Non mi piace molto il creeper Ok Non mi piace Sei pezzi di oro Misery Continuando per la cave Vabbè rega Ma io muoio qui E sicuro Ma c'è ma Mi volete far morire Vabbè No 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 Sono un idiota Sono un idiota Torna subito indietro Torna subito indietro Sono un combattuto Eh vabbè Come faccio adesso Un ragazzo Un ragazzo mi ha chiesto Di fare la pixel art Delle Cose gemelle Sì Delle birce gemelle Mi ha fatto un colpo Del di fare la pixel art Delle birce gemelle Ok Lì dopo non devo andarlo a prendere Solo che mi sono dimenticato Di prendere lo screenshot Delle coronate dello spawn E visto che non posso morire Non posso tornare facendo Slash kill O uccidendomi a caso Quindi niente Dovrò cercarmelo off camera Lo spawn Per ricopiarmele Adesso Io prego sinceramente Che uno scheletro Non passi precisamente In questo preciso istante E non mi uccida Non mi sciotti E mi butti giù E in quel caso Perderai subito la serie Perché non mi piacerebbe Allora lì c'è del ferro E mi piace questa idea Mi piace molto Poi Qua c'è Vabbè 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 Regà non si può Non si può Ma faccio il beacon Di blocchi di smeraldo Se vuoi Basta che me lo dici Prendo il col Comunque ragazzi Mi sono dimenticato di dire Questo video Non lo apri Registrato subito dopo Perché non ho avuto tempo Devo finire di fare bagagli Infatti Lo sto registrando Adesso appena sono tornato Praticamente tipo Dieci minuti sono passati E lo sto registrando Precisamente adesso Adesso prendo anche il ferro Però non vi preoccupate Che non lascio niente Al Tua mamma Ho visto però qualcosa Di sbrilluccico No era uno zombie quello Ok Avevo visto un diamante a caso Ok Qua non facciamo cavolate Ok regà Ho andata E Sta andando Come cosa Ok Ce l'ho fatta Non sono morto Quindi Ma Che cavolo Ma non ho messo la optica Quindi dov'è Ferro Yeah Bello il ferro Mi piace sempre il ferro Laghetto di lava Non so se andare a prendere Quel ferro là Sì dai Mi serve il ferro Non ne ho tanto Perché io metto sempre Tante torce Che palle Sta cosa del 1-9 È una cosa Delle cose che odio Il non poter spammare Perché se no metti le torce Cosa mi servono le torce Nella lava Credo di vederci già bene Sulla lava No No eh Tu dici che non ci vedo Eh allora non ci vedo Io non ne manca più voglia Di prendere tutto sto carbone Non mi serve Non mi serve Cioè sì In realtà mi serve Però non ho voglia di prenderlo L'Aven Manor Sarebbe troppo Come una vanilla Però è una mod In quel caso Non sarebbe più vanilla Ma sarebbe leggermente Mondato Quindi questo no va bene Magari un giorno porterò Una serie moddata Sì dai Modpack potrei anche portarlo Magari suggeritemi voi Nei commenti Un modpack molto figo Magari Molto faigo Da portare Che sia tecnico Avventuroso Hardcore Qualsiasi cosa Perché la Sì la survival L'eincraft vecchia Era figo Il pack era molto figo Cioè tutte le modde Che mi piacciono E tene quella Della fama E della seta Che non Cioè della seta Che proprio la odio A morte Allora Io direi di non scendere Giù perché vedo cose Che voi umani Non potete nemmeno Immaginare E vabbè Ma ci sono Cioè ma Ma com'è possibile Quattro zom Due zom Un zom No due zombie Uno zombie Zero zombie E vabbè Capita No vabbè Non è possibile Io vedo diamanti No non vedo diamanti Stavo scherzando Però non devo cadere Per nessuna ragione Al mondo Non ho fatto Back up Di sto mondo Quindi Non vorrei Caderci subito Anche perché Questo mondo È bellissimo Ok Non voglio perdere Le birce gemelle Subito Allora Prendiamo tutto Il ferro Che c'è Ok 22 pezzi Credo che Possano bastare Adesso Me la rischio Oppure Sì dai Me la rischio Fai un po' Che tutti Ok Ok Illuminiamo Io li illumino Sempre un pochino Prima di Morire come un idiota Che bello Quanto ferro c'è Mi faccio Full ferro Subito Regà Sento Mi sento Mi eccito Così Se me lo dici Così Però Minecraft Mi eccito Faccio come Gun Quando Mettermi C'è la zucchina Ok Ho preso tutto All De ferro No Scherzavo Non l'ho preso Tutto E vabbè Capito Non è tanto Di sbagliare Allora Sono questi ultimi 5 pezzi Perché devono sempre 6 pezzi Ma quanti sono 7 Vabbè Questa è la miniera Di ferro Più Più lunga Di Che io Mai Vabbè Ma quanto ferro 51 pezzi E già Oh mio dio Ci metterò i secoli Questa miniera È troppo grande Poi ho dei problemi Con il miniere Devo per forza Prendere qualsiasi cosa C'è Un pezzo E basta Mi Quanto sai Tirchio Eh gioco Potete anche Darmelo Più di un pezzo Basta Piazzare torce A caso Allora Continuando Qua c'è un pochino Di oro Un attimo Di ferro Gli attimi Sono diventati Di ferro Ultimamente Non so voi Se come le pensate Allora E no 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 Oddio Oddio Ste cose qui Non mi piacciono No Non mi piacciono Per niente E non c'era niente Ok 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 Sto rischiando Già di morire Non mi piace Sta cosa Non mi piace Per niente Volevo Io che volevo Farmela safe Molto safe Adesso scendo Con una piccola Scaletta Così Già che ci sono Prendo pure Il ferro Che c'è qua A che livello siamo 20 Potrei addirittura Trovare di diamanti Così Tanto perché è bello Trovare diamanti a caso Allora Là ci sono Talmente Perché l'ho fatto No regà perché l'ho fatto No regà perché l'ho fatto No perché l'ho fatto Sono un idiota Sono un idiota Acqua Acqua Ti prego acqua No 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 regà regà Qua ci muoio tantissimo No andatevene Andatevene zombie Andatevene 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 Creeper 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 esplodi Creeper esplodi Dai 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 Che forse riesco a vivere ancora Ok è andato Andato Muoreci 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 zombie muoreci Mamma mia il pro Mamma mia il pro No No gli scheletri no Nella 1-9 gli scheletri sono troppo forti Mi dispiace Addio Ok Ok recuperiamo vita Prima di far cacchiate Poi andiamo a uccidere lo scheletro Ok ho recuperato Prendiamo la resta che non fa mai male E uccidiamo lo scheletro Ok è andato Regà Ci siamo impossessati del sotto Per sbaglio Mi sono cagato in mano Perché faccio così pochi fps Fraps Ti prego Non morirmi adesso Che ho fatto le big pro action Allora Ho fatto bene a farmi più con il ferro Perché qua c'è un casino di cosa Di cosa Sto prendendo un casino di redstone Dai meno male Adesso magari Mi riesco a fare addirittura una mela dorata Dai Mi piacerebbe molto farmela A quanto sto Sì sì 12 Ciao l'Ava Ciao l'Ava Ciao l'Ava Ava Come Ava È una È Java Questo qui è Java 7 Java 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 Quello Ok Ok Ma perché io devo fare sti cacchiati Ma perché mi devi lagheri di fps in questi momenti No Non fare Allora Giuro che se c'è uno scheletro No 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 Cazzo regà No Chi l'ha visto questo Chi l'ha visto questo Raga No dai Non ci credo Non ci credo Mi ero impegnato Era un mondo bellissimo Porca miseria Mi ha fatto prendere pure un colpo E che palle però E niente ragazzi per questo video Penso che possa essere tutto Magari è venuto addirittura Corto mi dispiace Ci ho provato Creeper lì è stata la roba più brutta del mondo Non l'avevo nemmeno sentito L'avevo sentito totalmente quando è esploso Non è praticamente possibile Dovevano diminuire i danni Nella 1.9 dei creeper Ma quello era troppo forte Lasciate un like Se volete che io riprovi Comunque anche se sono un abbo A fare una minecraft Questa minecraft è andata Quindi game over Regà game over Vi lascio al prossimo Ezzo di serie Che probabilmente faccio Anche se no lasciate like Però lasciatelo comunque Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti